Buongiorno a tutti da Zioba, anche oggi siamo riusciti a fare mercato con le varie distanze, con il gel per le mani, con la mascherina, tutti molto educati e con le strisce a terra che delimitano i banchi. Un grazie al comune che ha inviato una PEC molto significativa con delle linee guida precise ai vigili che hanno fatto rispettare ovviamente le distanze e quant'altro. Che dire, il Veneto è una ragione che ci comporta bene e questi sono i risultati. Grazie. Buongiorno, come vedete anche oggi fortunatamente siamo al mercato, in sicurezza, con mascherina, guanti, disinfettante, distanziamento. Per il momento ci siamo e vi aspettiamo come sempre con tutte le nostre novità. Allora anche oggi siamo qua perché dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale di questo favore che ci ha fatto. Domani leggeremo il DPCM, vediamo un attimo cosa è scritto nei nostri confronti e dopo vediamo bene, speriamo bene. Ok, grazie. Soprattutto tutta la gente di Chioggia che ancora ci vuole bene. Grazie mille. Soprattutto tutta la gente di Chioggia che ancora ci vuole bene. Grazie mille.